Musica Dramma nel Cosentino, uomo travolto e ucciso da un treno. Tragedia nel Cosentino, una persona è stata travolta da un treno nei pressi di Sibari sulla linea Metaponto-Paola. Il treno regionale era diretto a Cosenza e il macchinista all'improvviso si è trovato un uomo sui binari e non è riuscito a evitarlo. Sul posto sono giunti il personale della Polizia Ferroviaria, i tecnici di RFI e il traffico ferroviario è stato sospeso. Indagini della Procura per accertare l'esatta dinamica dei fatti. Incidente sulla A30 in Campania, morto imprenditore 38enne del Vibonese. Si chiamava Domenico Defina ed era, insieme al socio Raffaele Franzè, il titolare di un'attività di installazione di infissi e serramenta, che fino a qualche anno fa aveva sede nel suo paese di origine, a Stefanaconi, ma da un biennio spostatisi nella zona industriale di Ionadi. Il 38enne è deceduto stamani in un incidente stradale lungo l'A30 in Campania, nel tratto compreso tra il bivio con l'A1 e Nola verso Salerno. Per causa in corso di accertamento, l'auto sulla quale la vittima viaggiava insieme al socio si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al 38enne, che da tempo risiedeva a San Calogero, sempre nel Vibonese, dopo essersi sposato. Il socio è stato trasportato nell'ospedale, poi vicino, e le sue condizioni sono al vaglio dei medici. In Campania, i due imprenditori si trovavano per questioni di lavoro e al momento dell'incidente stavano facendo rientro in Calabria. Sulla scomparsa di Defina, il cordoglio del sindaco di Stefanacoli, Salvatore Solano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del sesto tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Il tratto autostradale è stato riaperto al traffico solo intorno alle 11.30. Contro tra auto e furgone sulla strada statale 18 a Cetraro, tre feriti e un morto. Altro grave incidente nella giornata di ieri, 15 gennaio, sulla statale 18. Dopo quello mortale a Curinga, si è verificato un violento scontro a Cetraro. Da quello che si apprende ad essere coinvolti nel sinistro, un'auto e un furgone, un morto e tre feriti. Questo è il bilancio. L'uomo, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco dell'istaccamento di Paola, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, dove è deceduto nella notte. Sul posto, oltre al 118, l'ANAS, Carabinieri e la Polstrada, per quanto di competenza. La statale 18 è stata interdetta al traffico per oltre due ore, fino al termine dell'intervento di soccorso. Munizioni, cocaina e funghi allucenogeni in casa, un arresto a San Giovanni in Fiore. Munizioni, cocaina e funghi allucenogeni conservati in casa, a San Giovanni in Fiore, nel Cosentino, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in fragranza di reato un 26enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato nella sua disponibilità e sequestrati circa 25 grammi di cocaina, suddivisi in 45 involucri termosaldati, marijuana essiccata per un peso complessivo pari a circa 20 grammi, 40 funghi allucenogeni e due bilancini elettronici di precisione. Nel corso della stessa perquisizione sono state rinvenute e sequestrate, in quanto illegalmente detenute, 46 cartucce di vario calibro per pistola. L'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la sicura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Indagine Glicine, numero indagati sale a 129. Con l'avviso di conclusione, indagini depositato oggi dalla Procura Distrettuale di Catanzaro, salgono a 129 le persone indagate nell'indagine denominata Glicine, che a giugno dello scorso fece luce su un comitato politico affaristico del quale avrebbero fatto parte ex presidenti ed assessori regionali, sindaci, ex assessori comunali, dirigenti della Regione Calabria e del Comune di Crotone. Tra i nuovi indagati ci sono anche due carabinieri. Gli inquirenti ipotizzano l'esistenza di un gruppo stabile e strutturato, promosso, diretto e organizzato da soggetti politici, amministratori pubblici, imprenditori ed intermediari di imprese, al fine di commettere una serie indeterminata e continua di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare nell'ambito regionale calabrese e crotonese, in particolare, gruppo del quale avrebbero fatto parte a vario titolo e in qualità di promotori e partecipi, nomi eccellenti della politica calabrese, come l'ex presidente dell'Aggiunta regionale, Mario Oliverio, l'ex vicepresidente Nicola Adamo, l'ex consigliere regionale Vincenzo Sculco, da giugno scorso sottoposto ai domiciliari, e la figlia Flora Sculco, a sua volta ex consigliera regionale. Fra gli indagati figurano ancora l'ex assessore comunale di Crotone, Giancarlo Devona, e l'attuale sindaco di Rocca di Neto, Alfonso Dattolo, gli imprenditori Giovanni Mazzei, Raffaele Vrenna e il fratello Gianni, questi ultimi rispettivamente ex presidente e attuale presidente del FC Crotone. Nel giugno scorso, con l'operazione Glicine condotta dal ROS dei Carabinieri, furono eseguite 41 misure cautelari, a carico di altrettante persone accusate di associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Complessivamente gli indagati erano 123, ma a conclusione delle indagini il numero è salito a 129. Nel procedimento sono state iscritte infatti altre sei persone, tra le quali l'imprenditrice Antonella Stasi e due carabinieri per un accesso illegale alla banca dati delle forze dell'ordine. Il gruppo di politici e imprenditori, delineato dagli inquirenti, sarebbe riuscito a piegare ai propri interessi affaristici e politici l'azione della pubblica amministrazione, condizionando pesantemente e in molti casi illecitamente le scelte relative ad incarichi e finanziamenti. A Coltelloco e Taneo, fuori da una discoteca a Capodanno, arrestato diciottenne a Cetraro. Un diciottenne è stato arrestato a Cetraro dai carabinieri della compagnia di Scalea con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai motivi abbietti e futili. Il ragazzo è ritenuto l'autore dell'accoltellamento di un uomo di 26 anni avvenuto a seguito di una lite scoppiata la notte di Capodanno nei pressi di un locale notturno di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza. L'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Paola su richiesta della locale procura fa seguito ad un'indagine condotta dai militari della compagnia Carabinieri di Scalea e della stazione di Belvedere Marittimo. All'alba del primo dell'anno i militari intervennero allertati da una chiamata al 112 che segnalava la presenza di un ragazzo ferito vicino ad un locale. Alla base del ferimento, secondo quanto accertato successivamente c'era stata una lite tra alcuni giovani e uno di loro, 26enne, era stato trasportato in una clinica la clinica da dove per la gravità delle lesioni provocate da un'arma da taglio vicino ad organi vitali era stato poi trasferito in elicottero nel policlinico di Catanzaro. Nella struttura sanitaria del capoluogo il 26enne è rimasto ricoverato per diversi giorni in terapia intensiva, inizialmente in pericolo di vita per poi essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico cui sono seguite dopo dieci giorni le sue dimissioni. Alla base del ferimento, secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri ci sarebbero state le provocazioni e le minacce messe in atto nei confronti del giovane arrestato di un amico della vittima suo coetaneo che si trovava nella discoteca con la ragazza per festeggiare il nuovo anno. Il giovane arrestato, che nutriva interesse per la ragazza nei pressi dell'uscita del locale avrebbe nuovamente rivolto insulti al coetaneo scatenando una reazione culminata in una violenta colluttazione. A quel punto il 26enne sarebbe intervenuto per sedare la rissa venendo prima minacciato e poi aggredito e colpito ripetutamente molto probabilmente con un coltello riportando ferite che solo per puro caso non si sono rivelate mortali. La Mezzia nascondeva arma clandestina in forno elettrico arrestato 51enne. Continuano le attività di prevenzione e repressione della criminalità diffusa nell'Interland Lametino da parte della Compagnia Carabinieri di La Mezzia Terme l'area di operazione è stata la zona di Santa Eufemia dove militari della stazione di La Mezzia Terme Scalo con il supporto dello squadrone cacciatore Calabria e del nucleo cinofili di Vibo Valencia all'esito di mirate attività d'iniziativa finalizzata alla ricerca di armi, munizioni e materiale esplosivo su sistemi presupposti di cui all'articolo 380 CPP hanno proceduto all'arresto di FG 51enne Lametino poiché sorpreso nella fragrante illecita detenzione di un'arma clandestina e del relativo munizionamento. Il relativo procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari. I militari della stazione, dopo un'accurata analisi del quadro infooperativo del territorio della giurisdizione a seguito di perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto una pistola Beretta modello 35 calibro 7.65 con 97 cartucce del medesimo calibro. L'arma era stata occultata all'interno di un forno elettrico presente nell'abitazione dell'uomo. Dopo una prima ispezione della pistola i carabinieri hanno constatato che la matricola era stata punzonata e che i rispettivi meccanismi di funzionamento nonché i congegni di mira dell'arma risultavano perfettamente funzionanti idonei all'offesa e con il colpo inserito all'interno della camera di cartuccia. La pistola e le munizioni sono state sottoposte a sequestro in attesa degli accertamenti dattiloscopici e balistici finalizzati ad appurare l'eventuale utilizzo delle stesse per altre attività delittuose. L'arresto è stato convalidato e il GIP del Tribunale di Lamezia Terme che, sussistendo gravi indizi di colpevolezza in ordine al prefigurato reato e specifiche esigenze cautelari ha disposto nei confronti del soggetto la misura cautelare della custodia in carcere. Giustizia Ministero avvia monitoraggio su 13 procure c'è anche quella di Catanzaro L'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia ha attivato il monitoraggio su 13 procure della Repubblica per quanto riguarda la loro modalità di comunicazione sui procedimenti penali in corso Avellino, Brescia, Cagliari, Ferrara, Catanzaro, Frosinone Livorno, Rimini, Rovigo Tempio, Pausagna Vercelli, Latina, Torino A renderlo noto nell'aula della Camera il sottosegretario della Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove rispondendo ad un'interrogazione del deputato di azione Enrico Costa Intimidazione a Pippo Caldipo Zess Calabria bandisce gara 20 milioni di euro per videosorveglianza nelle aree industriali L'ufficio del commissario per la Zess Calabria pur non avendo competenza in materia ha bandito una gara di importo di 20 milioni di euro finalizzata all'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree industriali calabresi Lo apprende l'Aggi che ha chiesto notizie in proposito dopo la denuncia di Pippo Caldipo noto imprenditore nel settore agroalimentare che aveva lamentato il mancato funzionamento delle videocamere installate nell'area di San Pietro Lametino dove i gnoti hanno sparato colpi di pistola contro un deposito dell'azienda specializzata nella lavorazione del tonno La competenza sui sistemi di sicurezza è del Corap, l'ente regionale preposto alla gestione delle aree industriali Ciò nonostante si fa sapere sfruttando i fondi del Pono Sicurezza alcuni mesi addietro è stata bandita una gara per la videosorveglianza che è in fase di aggiudicazione Volo Milano-Lamezia Cancellato Giudice di Pace dispone risarcimento da parte della compagnia Per un volo cancellato due abitanti di Milano hanno ricevuto 969 euro di risarcimento una cancellazione del volo Milano-Lamezia Terme del 13 luglio scorso da parte della compagnia EasyJet che ha dato comunicazione del volo cancellato con poco preavviso Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Lamezia Terme che pochi giorni fa ha disposto il pagamento di 969 euro da EasyJet nei confronti dei passeggeri Il Giudice di Pace di Lamezia Terme commentano da Italia Rimborso che ha difeso i passeggeri applicato il regolamento comunitario 261-2004 che tutela i passeggeri aerei anche in caso di volo cancellato con i passeggeri che possono richiedere la compensazione pecuniaria nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse Italia Rimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori e ancora una volta ha ricevuto una sentenza accolta accaduto come il 98,2% dei casi per attivare l'assistenza senza alcun prezzo per il passeggero è possibile farlo agevolmente compilando il form presente nell'home page del sito italiarimborso.it Parchi eolici nel Golfo di Squillace Zofrea preoccupato per ecosistemi la preoccupazione principale è che tali progetti nonostante siano etichettati come sostenibili possono non solo mancare di fornire benefici diretti alle comunità locali ma anche danneggiare paesaggi ed ecosistemi che hanno un valore intrinseco e un potenziale economico proprio ad esempio attraverso il turismo lo afferma in una nota Enzo Zofrea consigliere comunale di opposizione a Squillace con il gruppo tutti insieme per Squillace facendo riferimento ai progetti per nuovi parchi eolici nel Golfo di Squillace è fondamentale aggiunge Zofrea che ogni progetto di energia rinnovabile soprattutto quelli di grande scala come i parchi eolici offshore sia valutato non solo in base alla produzione di energia pulita ma anche in termini di impatto sociale ed economico a livello locale solo così si può garantire che i passi compiuti verso la sostenibilità non siano a scapito di coloro che dovrebbero otrarne beneficio la Calabria già elettricamente autosufficiente si confronta con il rischio di sacrificare la propria bellezza naturale senza ricevere benefici concreti in cambio la lotta per l'energia pulita deve quindi essere bilanciata con la tutela del patrimonio locale e la creazione di opportunità per le persone sul territorio Zofrea conclude in questa direzione accolgo con favore la meritoria iniziativa svoltosi a Valle Fiorita la presenza di alcuni sindaci del comprensorio la costituzione di un comitato può risultare non solo utile ma assolutamente necessario per tutelare il nostro territorio politica coesione Calabria da regione piano straordinario per oltre 200 assunzioni la vicepresidente della giunta regionale Giussi Princi con apposina nota inviata ai comuni alle province e alle città metropolitane di Reggio Calabria ricorda che attivo l'avviso di manifestazioni di interesse il quale avviando il piano straordinario di assunzioni per la politica di coesione ha l'obiettivo di raccogliere degli enti informazioni sul fabbisogno di risorse e profili professionali l'assunzione di personale scrive la vicepresidente rappresenta il principale intervento della programmazione nazionale capacità per la coesione 2021-2027 attuato sulla base di quanto previsto dal decreto legge numero 124-2023 sulla base degli esiti della manifestazione di interesse precisa sarà bandito con un successivo concorso per l'assunzione di funzionari a tempo indeterminato che saranno impiegati esclusivamente al rafforzamento delle capacità amministrative delle amministrazioni territoriali con riferimento alla gestione delle risorse e degli interventi della politica di coesione saranno specifiche inoltre la vicepresidente principi 50 ai nuovi assunti destinati al rafforzamento dei dipartimenti regionali distribuiti territorialmente sulla base delle esigenze espresse dalle candidature in particolare agli enti locali calabresi saranno destinati fino a un massimo di 209 assunti per i comuni 16 per le province 8 per la città metropolitana le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate fino alle ore 12 di martedì 30 gennaio 2024 esclusivamente tramite la piattaforma raggiungibile anche dalla pagina istituzionale del dipartimento per le politiche di coesione e del programma nazionale CAPCOE la domanda di adesione da parte degli enti interessati potrà essere inoltrata dai legali rappresentanti o da un soggetto da esso delegato eventuali richieste di chiarimento sulla procedura amministrativa possono essere inviate esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo e-mail quei siti chiocciola capcoe.gov.it entro sette giorni dalla data di chiusura della piattaforma il 30 gennaio 2024 infine la vicepresidente congiuntamente al direttore della programmazione unitaria Maurizio Nicolai al direttore dell'UOA Francesco Venneri e ai sindacati di categoria CGL CISL e UIL invita gli enti interessati ad aderire alla manifestazione al fine non solo di garantire opportunità occupazionali a giovani calabresi in possesso di requisiti ma anche di potenziare la capacità amministrativa degli enti impegnati a gestire per i prossimi anni importanti risorse finanziarie trasversale delle serre l'opera verrà completata il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato l'avvio dei lavori di completamento della trasversale delle serre un'importante opera stradale che collega la costa ionica nei pressi di Soverato con la costa tirrenica interconnettendola direttamente all'autostrada del Mediterraneo e al futuro ponte Zullo stretto di Messina questo collegamento veloce avrà un impatto significativo sull'economia dei territori interessati creando un mezzogiorno sempre più coeso e competitivo non solo a livello nazionale ma anche continentale e mondiale lo rende noto Giacomo Francesco Saccomanno commissario Lega Calabria l'esponente politico aggiunge è importante sottolineare che in Calabria e in Sicilia sono in corso numerosi progetti di sviluppo e infrastrutturale con un investimento complessivo di oltre 50 miliardi di euro grazie alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina questi finanziamenti saranno ulteriormente incrementati superando i 100 miliardi di euro entro un decennio questo permetterà di collegare in modo più efficiente l'isola più importante popolosa e strategica del Mediterraneo al continente richiedendo investimenti senza precedenti nella zona sud della penisola italiana inoltre la costruzione del ponte sullo stretto di Messina eliminerà la condizione di insularità della Sicilia consentendo di risparmiare una considerevole quantità di denaro attualmente spesa a causa di questa situazione questi fondi potranno finalmente essere investiti per realizzare numerose opere e migliorare i servizi dell'isola la Lega Calabria Chiosa Saccomanno esprime la sua gratitudine al Ministro Salvini per l'attenzione dedicata alla Calabria e al sud riconoscendo l'importanza di queste infrastrutture per lo sviluppo economico e sociale della regione l'interconnessione tra le coste ioniche e tirrenica unita al futuro ponte sullo stretto di Messina rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione territoriale e un mezzogiorno più competitivo sul panorama nazionale e internazionale Natura e Gastronomia al Naturium di Montepaone e Tempo di Veganuari in un connubio tra la natura e la gastronomia il progetto culturale Naturium si unisce con entusiasmo alla celebrazione del Veganuari offrendo un'esperienza culinaria unica a Montepaone Lido per l'intero mese di gennaio residenti e visitatori avranno l'opportunità di assaporare e scoprire gratuitamente una straordinaria varietà di prodotti vegetariani e vegani ogni giorno appuntamento alle ore 12 e alle ore 18 al Naturium di Via Nazionale Veganuari la nota iniziativa internazionale lanciata nel 2014 in Inghilterra promuove la dieta vegana incoraggiando un'alimentazione a base vegetale la campagna si è rapidamente diffusa in tutto il mondo stimolando non solo i consumatori ma anche le aziende produttrici a integrare nel proprio catalogo sempre più alternative vegane attraverso un'efficace strategia di comunicazione che sfrutta testimonial di spicco social media video podcast e newsletter vegano a rimira a sensibilizzare sull'impatto delle scelte alimentari sostenibili Giovanni Sgro il fondatore di Naturium evidenzia l'importanza di questa iniziativa vogliamo un mondo più sostenibile la nostra missione è da sempre quella di ispirare e supportare le persone per favorire scelte alimentari consapevoli l'obiettivo finale è proteggere il nostro pianeta e migliorare la salute umana con la sua partecipazione al vegano e a Renaturium non solo celebra un mese ricco di buoni propositi ma si pone anche come un faro di cambiamento e consapevolezza nella comunità la proposta di degustazioni quotidiane apre una finestra su un mondo di sapori alternativi sottolineando come una dieta veg possa essere una sola etica e sostenibile ma anche deliciosamente appetitosa ed ora ci fermiamo per una breve pausa a tra poco per lo sport la quattordicesima giornata del campionato di prima categoria girone C la quattordicesima giornata del campionato di prima categoria girone C la capolista guardavalle supera con un tris la rosarnese sfruttando anche in favore del campo e allunga sulle dirette inseguitrici anche in virtù della sconfitta del Real Pizzo a Parghelia si fa sotto il Piscopio ora al secondo posto in seguito alla vittoria interna con il Mileto ancora una sconfitta della società città di Soverato che torna a mani vuote dalla trasferta di Taverna e si allontana dalla zona playoff e viene agganciata sia dal Montepaone che fa 2 a 2 a Borgia e dalla Rosarnese una gara giocata a viso aperto contro una taverna ostica ma rovinata dalla direzione di gara di un giovane arbitro lametino che ne ha combinata di tutti i colori facendo esplodere la rabbia dell'intera società che già da ieri ha scritto alla Lega per fare sapere quello che la giacchetta nera ha realizzato su 2 a 1 non concede un calcio di rigore poi espelle anche un dirigente e ammonisce un po' tutti comunque noi ci fanno sapere dalla società continueremo il nostro progetto nella speranza che qualcosa cambia nella sezione arbitri e speriamo che nelle prossime gare ci mandano qualche arbitro più esperto una gara che vale playoff non si doveva far dirigere da un esordiente speriamo bene questi risultati e la classifica Parghelia Pizzo 2 a 1 Martelletto Rombiolese 2 a 0 Borgia Montepaone 2 a 0 Guardavalle Rosarnese 3 a 0 Corace Promosport 0 a 6 Taverna Soverato 3 a 2 Piscopio Mileto 2 a 1 ha riposato il Prasar questa è la classifica Guardavalle 33 punti Piscopio 30 Pizzo 28 Parghelia 25 punti Taverna 22 punti Promosport 20 3 società a 17 punti Soverato Rosarnese e Montepaone Rombiolese 16 punti Borgia 15 Martelletto 12 punti Corace 9 Prasar 6 Mileto 3 punti Ed ora Calcio 5 Serie B Girone H Continua la marcia trionfale del Soverato Fuzzal e Invet la classifica anche in condominio con il Mazzara i ragazzi del presidente Filippo Forte dopo aver superato l'allora capolista Mistral in terza siciliana sabato si è ripetuta al Palascoppa contro l'Arcobaleno Ispica con il punteggio di 6 a 3 un risultato ottenuto anche alla grande partecipazione dei propri ultra che hanno invaso il Palascoppa mantenendo la prima posizione non molla il Mazzara che supera di misura il Gela con 4 a 3 che non ha lasciato sicuramente un'ottima impressione al quarto posto il Mistral che trafigge la città di Adrano con 12 a 5 per i padroni di casa vince anche il Blinkjink soverato sul difficile campo del Barcellona mentre ancora una sconfitta per il Bovalino questi risultati e la classifica Monreale Bovalino 3 a 0 Gela Marsala 2 a 4 Mazzara Acireale 4 a 3 Soverato Ispica 6 a 3 Barcellona Blinkjink 3 a 4 Mistral Adrano 12 a 5 questa è la classifica Mazzara Soverato 28 punti Mistral 27 Marsala 26 punti Blinkjink 17 Adrano 16 punti Ispica 15 Barcellona 14 Acireale Monreale 13 punti Bovalino 8 Gela 1 punto Ritorno al successo MyEnergy vince davanti al pubblico amico Ritorno al successo in grande stile per la MyEnergy che si rialza dopo due sconfitte in sequenza e batte gli svincolati Milazzo con il punteggio finale di 90-80 Partenza superi dei ragazzi di Federico Cigarini che palesano un'estrema voglia di rialzarsi la tripla di Maximovic e i canestri dello stesso regista e di Tirtisnik firmano l'11 a 0 che spiana la strada alla vittoria nero-arancio svincolati non giocano una buona gara Reggio ne approfitta schierando svariati elementi importanti durante tutta la gara ruotando uomini e mezzi in vista della settimana ricca di impegni dopo il 15 a 2 iniziale svincolati non daranno mai la vera impressione di crederci la MyEnergy rispetta il vangelo di coach Cigarini corsa poca razionalità e voglia di far canestro la risultante è spaziale più 10 nel primo quarto che si allunga nel secondo grazie alla serata straordinaria dalla lunga del capitano Binelli realmente devastante nei panni di MVP della sfida la gara diventa una sfida al bersaglio della lunga godibile e veloce svincolati arriva sul meno 6 nel secondo periodo prima di soccombere sotto le giocate di Tirtisnik e Sochi molto bene la crescita di Cessel sotto canestro accanto al già citato Maximovic più 13 all'intervallo lungo che si implementerà anche nel terzo periodo nonostante la voglia di non mollare dei giovani scredi per gli ospiti allenati dall'ex Trimboli il 67-51 di terzo quarto rispecchierà l'andamento della gara nell'ultimo quarto arriveranno le triple di Barbere Battaglia la schiacciata di Odige ma sarà tardi lo staff tecnico nel arancio ritrova dopo uno stop per infortunio il regino Tommaso Russo manda canestro e riceve ottimi feedback da Yusupa Conte e festeggia grazie alla tripla dell'angolo di Antonio Mazza una bella vittoria che rilancia le ambizioni di una Viola oggi seconda in classifica insieme al Ragusa la voglia è stata quella giusta la marcia indomita può ripartire con la fame di inizio torneo senza porsi limiti e pensare a far bene gara dopo gara attra protesta oscur meals amone che l'angolo attra i